Dopo il rogo della discarica dell'AMA in via Salaria a Roma, si affaccia l'ipotesi dell'arrivo di nuovi rifiuti dalla capitale verso l'Abruzzo, alla luce della richiesta di aiuto arrivata in queste ore dalla giunta capitolina. L'accordo tra Roma e l'Abruzzo, sottoscritto dall'allora governatore Luciano D'Alfonso, prevede l'accoglimento di 70.000 tonnellate annue di rifiuti, di cui il 90% torna poi indietro dopo essere stato trattato nei siti abruzzesi Aciam di Aielli, Cogesa di Sulmone e Deco di Chieti. E se la scadenza del contratto tra la regione e Roma è fissata al 31 dicembre, il sottosegretario, la presidenza della giunta regionale, Mario Mazzocca, si dice categorico circa la possibilità di accogliere nuovi rifiuti dalla capitale. Ritengo altamente improbabile questa opportunità per tutta una serie di motivazioni e quindi personalmente ho già manifestato la mia netta contrarietà ad accogliere ulteriori quantitativi in soccorso della regione nazionale, non per un fatto campanilistico, ma perché ritengo che il nostro piano di gestione integrata di rifiuti, che con tanto sacrificio e sudore abbiamo portato a termine dopo tre anni di battaglia, credo che poi dovrà avere le gambe per camminare. In terzo luogo, il mio impegno, ne ho parlato già con il Presidente Vicario Lolli, è quella di sottoporla a questa richiesta all'esame della giunta regionale, fermo ne stato che per quanto mi riguarda il rapporto con la regione Lazio si saurisce il 31 di dicembre con le convenzioni che abbiamo già sottoscritto nel corso di questi anni. L'Abruzzo già fa la propria parte a favore di Roma Capitale, ora è bene che cominciano a farle anche agli altri.